Sicuramente una giornata più che positiva, ci riempie di orgoglio perché vedere uno stadio partenio gremito di piccolini è il sogno penso della società, è stato fin questo da sempre, portare i ragazzini a calcare lo stadio del partenio. Il progetto si sviluppa proprio su questo, stiamo partendo dalle fondamente per costruire un palazzo. È il quarto progetto che si accoda agli altri costruiti sul settore giovanile. Questo fa capire la valenza che la società dà soprattutto ai giovani per costruire dal basso. Il nostro fondamentalmente è aprirci a una rete, un network per valorizzare il potenziale sportivo sul territorio irpino. Ma oggi non solo irpino, è con gran piacere, con noi c'è la scuola calcio di un ex bianco verde Peppe Morfu dalla Calabria e quindi ci riempie di orgoglio capire che il brand Avellino non è soltanto legato ad Avellino ma bensì va anche fuori ed oltre, è un nome che fa risonanza e si vede oggi con noi, ci sono tantissimi ragazzi. Sicuramente abbiamo fatto una selezione perché il nome dell'Avellino e il band Avellino fa gola a tutti. Però abbiamo cercato ovviamente di dare l'opportunità in primis, io le chiamo le magnifiche sette per quest'anno che sono state scelte che sicuramente sono sicuro che aumenteranno col tempo, ci saranno molte più accademi ma le prime sette sono state scelte su principi di storicità, di programmazione tecnica e soprattutto quello che richiede molto il band Avellino sono i valori etici e soprattutto valori sportivi che vanno oltre a quelli che sono tecnici per questa fascia di età che noi sappiamo e ci auguriamo che tutti quanti loro diventino dei calciatori in futuro e qualcuno mi auguro che calcherà questo stadio nella prima squadra ma sicuramente ognuno di loro sarà il futuro uomo della società o donna della società e quindi il brand Avellino deve fondarsi soprattutto su dei valori che sono quelli morali e etici.